Domattina il commissario per gli interventi per la ricostruzione Schilardi arriva all'Acquameno e incontra tecnici ed amministratori, quindi c'è una fase operativa. Stani Serese, di che cosa si occuperà domani questo tavolo di lavoro? Sì, in effetti stiamo entrando nel vivo della ricostruzione e quindi il commissario prima di tutto ci porterà il risultato della microzonazione in quanto ha stipulato una convenzione col centro nazionale per la microzonazione e partirà la fase operativa per portare a termine questo lavoro che è un lavoro fondamentale per poi ricostruire perché è alla base. In più ci sarà la redazione del decreto, più che decreto, dell'ordinanza per gli interventi di lieve entità, cioè chi ha subito danni lievi potrà richiedere e effettuare i lavori e richiedere contestualmente il contributo e l'ordinanza in effetti stabilirà le modalità e le procedure e le risorse da chiedere per poter effettuare questi interventi. Quindi questo significa che si comincia a mettere mano concretamente, si fa un passo avanti, quindi c'è una risposta concreta ai cittadini che aspettano da oltre un anno che si smuovano le cose? In effetti si parte con la ricostruzione, è chiaro stiamo parlando degli interventi più semplici, però questo già ci consente di snellire l'emergenza, di permettere a tante persone che oggi sono fuori casa in quanto hanno quasi inagibili, di poter effettuare i lavori col contributo dello Stato e di poter iniziare a entrare nelle proprie case mettendoli in sicurezza.